Musica Cari fratelli e sorelle tant'amati dal Signore che vi accoglie nel suo cuore Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro, dal Signore nostro Gesù Cristo E buongiorno da parte di Don Umberto E diciamoli insieme Ci sono rodati i Sacri Cori di Gesù, di Maria Giuseppe, ora e sempre Ecco la parola di vita per oggi Come figli obbedienti diventate santi Santi, non c'è da spaventarsi di fronte a questa parola E' una cosa bella e semplice E' ciò per cui siamo stati pensati e creati Ogni volta che cerchiamo di obbedire a Gesù Pazientando, perdonando, amando E ci stacchiamo da ciò che dipende dalla terra Lo siamo Obedienza è sinonimo di santità, di pace, di gioia Signore Gesù Cristo, che sei stato obbediente al Padre fino alla morte di cruce Donaci la grazia di avere totale fiducia nel Padre Per fare sempre, con gioia, la sua santa volontà Ed ora, ascolta Gesù Che parla il tuo cuore E ti dice Anima cara Ricorda che Mia madre e io Siamo la tua ricchezza Il tuo successo La tua salute Accettaci in tutto quello che fai Come si accetta forza e bellezza Facci l'onore di metterci al di sopra di tutti i tuoi amici Di tutte le tue mire E sii fedele alla grazia Che ti chiama a una stretta unione con noi Ed ora Accogli con fede la benedizione del Signore Nella divina volontà Nel nome del Padre e del Figlio E dello Spirito Santo Amen Ti voglio benedire con la stessa benedizione Con cui Gesù Benedisse la sua Madre Santissima Prima di iniziare la sua passione Quindi Per mezzo e intercessione Del Beato Sempre Vergine Maria Madre e Regina della divina volontà Ti benedico Per imprimere in te Un triplice suggello Delle tra divine persone Affinché tu risorga Del tuo decadimento Per vivere nel divino volere Questa benedizione Nel nome del Padre Comunichi in prima Nella tua volontà Il sigillo della sua potenza Restituendo la sovrana di tutto Nel nome del figlio Gesù Comunichi in prima Nel tuo intelletto Il sigillo della sua sapienza Nel nome dello Spirito Santo Comunichi in prima Nella tua memoria Il sigillo del suo amore Ti sono restituita La forza dell'anima E del corpo Sì, risanato Ogni infermità spirituale E corporale Enrichita e abilita Di ogni bene e virtù Sia la tua anima E per circondarti Il difeso contro il demonio Il mondo e la carne Insieme con Gesù Ti benedico Tutte le cose da Lui create Affinché tu le ricevi a tutte E benedite da Lui Ti benedico la luce L'aria L'acqua Il fuoco Il cibo Tutto, tutto Affinché tu resti Come in abissato e coperto Con queste benedizioni Insieme con Gesù Ti benedico il cuore La mente Gli occhi Gli orecchi Il naso La bocca Le mani I piedi Il corpo E vissere Il respiro Il moto E tutto Ti benedico per aiutarti Ti benedico per difenderti Ti benedico per perdonarti Ti benedico per liberarti D'animale Ti benedico per constrarti Ti benedico per farti il santo Ti benedico dunque Nella divina volontà Nel nome del Padre Del Figlio Nel tuo Spirito Santo Amen Siano allodati Il Sacro Cuore di Gesù Di Maria Giuseppe Ora e sempre Nel tuo Spirito Santo 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 Grazie a tutti.